Sporta Integrazione è questo il titolo del convegno organizzato dal gruppo Brigantiamo di Montoro in collaborazione con il Forum dei Giovani e l'Amministrazione Comunale. Interessante e colmo di contenuti il dibattito che ha visto protagonisti anche i giovani calciatori della calcio avellino SSD Fabiano Parisi e De Leonay Tomte. È stato proprio quest'ultimo a cogliere in maniera netta, quasi commovente, il significato della serata. Comunque quando siamo arrivati qui abbiamo sentito davvero che questa è una gente calorosa che ci hanno ricevuto davvero tantissimo bene e voleva ringraziare anche loro. Però parliamo di sport, diciamo che è un scappatoio, è una via d'uscita dei giovani perché anche io ho saputo prendere questa strada lì perché da dove vengo io i giovani finiscono tante volte sulla strada a fare cose un po' cattive però lo sport mi ha aiutato a rimanere sulla strada dritta e diciamo che ho avuto questa fortuna di venire in Italia e da velino a seguire questo sogno però l'integrazione nello sport è davvero importante per i giovani della mia età. Un'occasione anche per parlare di passato con Di Somme e Fresta ma proiettandosi al futuro con un'idea, quella del coordinamento dei club che a Montoro hanno recepito in maniera decisa ed attiva. Il club dei briganti si propone di essere un punto di riferimento sul territorio montorese potrebbe, anzi abbiamo nell'idea quello di raccolpare tutta la tifoseria montorese che vi assicuro è massiccia, non dico sotto il nostro simbolo ma viaggiare abbracciati con loro, di comune accordo ma questa volta ci rendiamo conto che è quasi impossibile nella nostra realtà com'è impossibile nella realtà cittadina di Avellino? Non di facile realizzazione perché purtroppo siamo parecchi con vari siti, con varie bandiere però piano piano penso che ci riusciremo a raggrupparci, a fare come hai detto tu un coordinamento la gente si allontana, ne risentiamo, specialmente noi che siamo nei paesi un po' più lontani i ragazzini specialmente più piccoli tentano a non seguire non è la serie A che si segue dappertutto allora noi vogliamo, quello lo vogliamo fare, vogliamo raggruppare specialmente i più piccoli all'appassionale di Avellino anche se in serie C, in serie C1, anche in eccellenza però a far capire che la fede è unica e va seguita sempre